Si chiama Osterie del Gusto ed è il nuovo format promozionale dell'anogastronomia Umbra promosso dal Gal Alta Umbria in sinergia con il Gal Media Valle del Tevere, Confcommercio Cia Umbria Si e Consorzio Umbra e Tastes. Una rete di punti di ristorazione che promuovono la riscoperta e il rilancio delle antiche ricette culinarie e la valorizzazione della gastronomia locale, un progetto cui hanno aderito 38 impresse del settore e 51 aziende produttrici di cereali, carni, salumi, miele, ortaggi, funghi e tartufi, olio e vino. Le 38 Osterie del Gusto propongono speciali menu elaborati esclusivamente con prodotti tipici dei due Gal. Il primo degli appuntamenti si è svolto a Gubbio, al ristorante La Balestra, presente il presidente del Gal Alta Umbria Mariano Tirimagni e il presidente della Confcommercio di Gubbio Giuseppe Belardi. È un progetto innovativo sostanzialmente perché per la prima volta mette insieme i ristoratori dell'Alta Umbria e della Media Valle del Tevere e i produttori delle stesse zone in modo tale che possano proporre i ristoranti ai propri avventori menu tipicamente elaborati con esclusivi prodotti del territorio. Ed è questo un meccanismo secondo noi vincente perché il mercato della domanda turistica è molto attento a questo tipo di proposte culinarie, non gastronomiche ma anche di accoglienza turistica e sostanzialmente prevede l'adesione da parte dei ristoratori ad un disciplinare elaborato dai due Gal attraverso i soggetti attuatori appunto CIA e Confcommercio e prevede che i menu elaborati siano completamente prodotti con materie prime del territorio. La filiera corta, la ristorazione filiera corta è soprattutto un intervento che vuole essere anche un'innovazione dal punto di vista dell'offerta turistica. Ed ecco che la prima tappa ha visto un trionfo di sapori dal maialino con pere, cacciotta e tartufo, alla coratella d'agnello, all'imbrecciata ai bigoli, fave e pecorino, dal fricco di pollo alla zuppa inglese, per valorizzare un marchio, quelle delle osterie del gusto, garanzia di tipicità, genuinità ed entità gastronomica.